Il mondo intorno a te parla, ascoltalo, fallo con gli appariti acustici di Acoustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni 379 16 65 428. Blogger, Bresciani e Bergamaschi e amici del Lago Moro al lavoro per ripulire sentieri, strade e scarpate nella località Camuna fra i comuni di Angolo e Darfo Boario. Una trentina i volontari che si sono dati appuntamento sabato 4 giugno e che si sono sparpagliati sul territorio su cinque percorsi diversi. Nella parte alta e bassa attorno al lago. Abbiamo prima fatto una presentazione dove gli amici ci hanno raccontato tutta la storia geologica del posto e ci siamo accorti che è un posto veramente suggestivo perché fa parte del nostro territorio ma talvolta viviamo non consapevoli di quello che veramente abbiamo tra le mani nel comune di Darfo. Noi abbiamo raccolto su cinque gruppi diversi, abbiamo raccolto anche materiale ingombrante. Tutto sommato però gli intorni del Lago Moro sono abbastanza puliti. È un piacere per me come associazione amici del Lago Moro aver intrapreso questa collaborazione con i bloggers che conto che si ripeti che rimanga annualmente una tradizione perché lo spirito è lo stesso. Proprio in questi giorni complice il Gran Caddo al Lago Moro c'è già un grande afflusso di gente. La gente sicuramente quando il tempo è bello, soprattutto sabato e domenica, è numerosissima e quindi dovremmo comunque tenere gli occhi aperti anche perché vengano rispettati i certi divini che ci sono. Quindi comunque la prospettiva è buona, noi come amici del Lago Moro continuiamo la gestione del centro di documentazione. Aperto sempre nei fini settimana per far scoprire a tutti le peculiarità di questo posto ricco anche di flora pregiata. È un luogo da vivere con grande rispetto. Non di facile soluzione questa dicotomia fra lo sviluppo turistico, che vuol dire anche far godere di questi bellissimi paesaggi le persone e però il rispetto dell'ambiente e non sempre è facile trovare il punto di equilibrio. Siamo qua ai tacchi.